La crisi si combatte investendo, puntando sulle nuove generazioni e sulla diversificazione territoriale. È la filosofia la base della nuova iniziativa imprenditoriale della famiglia Valiante, che dopo 25 anni di attività a Ielsi ha inaugurato una seconda sede anche a Ripa di Musani, nella zona industriale. La nostra idea di impresa è basata sul lavoro e sull'esperienza accumulata in un quarto di secolo nel campo della termoidraulica, ha detto Giuseppe Valiante durante la cerimonia inaugurale, sottolineando come sia importante condividere queste esperienze sia con gli installatori che con il pubblico finale. L'innovazione tecnologica nel campo del riscaldamento e del condizionamento, ha spiegato invece Andrea Valiante, può essere in questo momento una fonte di risparmio molto importante per famiglie e imprese, ma c'è bisogno di informazione e consulenza per orientarsi all'interno delle diverse soluzioni sviluppate dall'industria. Siamo ancora a Ielsi, abbiamo avuto la succursale di qui di Campobasso, anzi a Ripa di Mosani, nella zona industriale di Campobasso, e ho aperto questo punto vendita anche per seguire le orme di mio padre. Don Peppino Cardegna, parroco di Ielsi, benedicendo la nuova sede, ha sottolineato il valore del lavoro condiviso in famiglia come elemento positivo sia per l'economia che per la società.